Siamo con la dottorissa Rosa Lampasona, responsabile del reparto di terapia intensiva del Covid Hospital di Agropoli. Allora, dottorissa, ci eravamo lasciate qualche mese fa, la situazione era abbastanza sotto controllo, oggi siamo al 10 di settembre e a quanto pare si è ribaltata, tant'è che anche la terapia intensiva è stata riaperta, quindi sei posti sono attivi. Buonasera a tutti, il 19 giugno, vista che l'emergenza Covid era apparentemente in regressione, giustamente sono state fatte delle scelte a livello aziendale dove c'è stata una riduzione dei posti letto, sia per quanto riguarda il reparto che è gestito da me come subintensiva intensiva, per cui da 16 posti letto furono ridotti, come ben si ricorda, a 7 posti di subintensiva e l'intensiva si lasciò all'epoca Scafati proprio perché si è ripetuto, ritenuto opportuno, vista che l'emergenza era in riduzione, far sì che Scafati si occupasse dei 4 posti letto di rianimazione e l'ospedale di Agropoli subintensiva a 7 posti e il dottore Ghielmi con malattie infettive a basso e media intensità da 20 posti furono ridotti a 9 posti. Questo proprio in quanto la curva dell'emergenza CODI era in discesa e quindi fu fatto questo passaggio giustamente a livello aziendale. Dopodiché abbiamo avuto una piccola pausa, piccola nel senso che c'è stato un momento in cui abbiamo avuto meno ricoveri. Noi non siamo mai stati Covid free, parlo per quanto riguarda il reparto di terapia subintensiva. Abbiamo sempre sia luglio che agosto avuto ricoveri, in numero sicuramente ridotti a quello che c'è stato nel periodo invernale dove abbiamo occupato sempre i 16 posti letto e con un numero di ricoveri di 160. Nel periodo estivo abbiamo avuto 2, 3, 4 pazienti, sicuramente in numero ridotto, soprattutto giovani che non erano vaccinati e che avevano una situazione apparentemente migliore rispetto a quella della ondata precedente. Invece le cose sono già cambiate dopo il 20 agosto dove la situazione si è vista che la crescita è aumentata dei ricoveri perché sono aumentati i casi positivi di Covid ma sono aumentati quelli da ospedalizzare. Tenendo conto che durante il periodo estivo abbiamo avuto sempre pazienti Covid che però venivano gestiti a casa dalle USCA perché erano pazienti asintomatici o comunque sintomi influenzali, febbrili, quindi venivano a carico dei medici delle USCA che li seguivano in maniera molto serena e tranquilla. Dopo il 20 c'è stato questo incremento invece dei ricoveri di pazienti che non potevano essere assolutamente più gestiti a casa perché erano pazienti sintomatici con spesso anche patologie pregresse e non solo perché dopo il 20 ho incominciato a ricoverare io e anche il dottore Ielmi. Sta di fatto che il dottore Ielmi prima di me ha aumentato i suoi posti letto da 9 di nuovo a 20 con l'apertura il giorno 24 agosto dei suoi posti letto proprio perché dovevamo fronteggiare il numero dei ricoveri in aumento. A me invece è stata di nuovo riattivata il giorno 27 agosto la terapia intensiva con sei posti letto che avevo già in precedenza più i sette di sub che non ho mai chiuso. Attualmente quindi ho 13 posti disponibili e in questi giorni abbiamo lavorato tantissimo entrambi le parti di questo ospedale anche il dottore Ielmi è stato pieno sempre con ricoveri che venivano dal territorio e parlo del territorio io parlo sempre da Salerno a scendere e dalle zone limitrofe. Pazienti il dato significativo che è questo che è stato anche pubblicato a livello aziendale che la percentuale maggiore è quella dei non vaccinati il 65 per cento dei nostri ricoverati in questo presidio ospedaliero si riferisce a pazienti non vaccinati. Per quanto riguarda le fasce di età sono fasce di età variabili nel senso che abbiamo quello di 40 anni 50 60 70 e 80 anni con patologie o meno. Sicuramente l'incidenza ripeto è maggiore dei non vaccinati una piccola percentuale dei pazienti che sono stati vaccinati e che hanno sviluppato il covid con una polmonite interseziale importante come quelli non vaccinati. Sicuramente perché questo non lo sappiamo probabilmente c'è un substrato genetico in cui questi percentuali minori di pazienti vaccinati sviluppano la malattia. Sa di fatto che la reazione comunque è diversa almeno per quello che ho visto io personalmente quindi un'esperienza prettamente personale. Ieri per esempio è stato dimesso un paziente che era vaccinato che ha avuto una bruttissima polmonite interseziale locale che è tornato a casa quindi è riuscito a superare il covid e a guarire. È stato trattato sicuramente in una terapia subintensiva dove già è arrivato con una dispnea importante brutta polmonite però curando non solo da un punto di vista farmacologico ma soprattutto in una subintensiva dove abbiamo utilizzato dei presidi di ossigenoterapia di non invasiva quindi paziente non intubato è riuscito a tornare a casa. Attualmente quanti posti sono impegnati all'interno del reparto speciale? Attualmente oggi ho sei pazienti in subintensiva in intensiva attualmente non ne ho nessuno. Li ho avuti nei giorni passati e adesso non ne ho.